Uno dei gol molto più importanti, se non altro. Ed eccoci all'incontro fra Sparta Mosca e Anderlecht, vinto dalla squadra sovietica per 1-0, ma l'Anderlecht che aveva vinto per 4-2, ecco un rigore fallito, sempre sul punteggio di 0-0, che siamo ancora per rivedere. La formazione dell'Anderlecht aveva vinto per 4-2 all'andata e quel vantaggio abbastanza ampio le aveva dato la possibilità di giocare con tranquillità fino a subire soltanto due minuti dalla fine dell'incontro.